In questo tutorial vediamo degli esempi di equazioni esponenziali risolubili con un'incognita ausiliaria. Partiamo da questo primo esercizio. Come prima cosa fisso l'attenzione su 3 elevato alla 1 meno x e vado a separare questi due esponenti e scrivo 3 alla x più 3 alla 1 ossia 3 per 3 alla meno x uguale 4. Osservo ora che scrivere 3 alla meno x e scrivere 1 su 3 alla x è la stessa identica cosa e allora al posto di 3 alla meno x nell'equazione scriverò 1 su 3 alla x ed ottengo 3 alla x più 3 per 1 fratto 3 alla x uguale 4. Effettuo ora un cambio di variabile ponendo 3 alla x uguale t e allora qui e qui scriverò t ottenendo t più 3 per 1 su t ossia 3 fratto t uguale 4. Ottengo così un'equazione algebrica che va da risolvere. Effetto il minimo comune multiplo e scrivo t a denominatore a primo e a secondo membro. Moltiplico t per t ed ottengo t alla seconda più 3. A secondo membro devo moltiplicare 4 per t e scrivo 4t. Semplifico i denominatori e impongo come condizione di esistenza che t deve essere diverso da 0. Ricordiamo che t è pari a 3 alla x, ossia 3 alla x deve essere diverso da 0. Ora una funzione esponenziale è sempre una quantità positiva, quindi certamente è sempre diverso da 0. Una volta imposte le condizioni di esistenza torniamo all'equazione. Portiamo 4t a primo membro e scrivo t alla seconda meno 4t più 3 uguale 0. Ho così un'equazione di secondo grado che va da risolvere e scrivo t uguale meno b, ossia 4 più o meno radice quadrata di meno 4 alla seconda e scrivo 16 e poi meno 4 per 1 per 3 ottengo meno 12 fratto 2 uguale 4 più o meno 16 meno 12 ottengo 4. La radice di 4 risulta essere pari a 2, tutto quanto fratto 2. Ottengo due soluzioni, 4 più 2 ottengo 6, diviso 2 e scrivo 3. E 4 meno 2 è pari a 2, dividendo per 2 ottengo 1. Una volta che abbiamo determinato le soluzioni in t, ricordiamo che t è pari a 3 alla x e quindi dobbiamo porre 3 alla x uguale alla prima soluzione, ossia 3, e poi 3 alla x uguale alla seconda soluzione, ossia 1. Risolvo la prima equazione. L'esponente di questo 3 risulta essere 1. Confrontando tra di loro gli esponenti otteniamo come soluzione x uguale 1. Risolviamo ora la seconda equazione, tenendo presente che 1 può essere riscritto come 3 alla 0. Ora che abbiamo la stessa base a primo e a secondo membro, confrontando gli esponenti otteniamo come soluzione x uguale 0. E allora le soluzioni di questa equazione sono 1 e 0. Passiamo a questo secondo esercizio. Come prima cosa fisso l'attenzione su 2 elevato alla 5 mezzi meno x. Devo separare questi due esponenti e scrivo 2 alla x meno radice di 2 uguale 4 meno 2 alla 5 mezzi per 2 alla meno x. Osservo ora che 2 alla meno x è uguale a 1 fratto 2 alla x. Osservo inoltre che 2 alla 5 mezzi è uguale a radice quadrata di 2 alla quinta. Visto che questo esponente è maggiore dell'indice della radice, possiamo portare fuori dalla radice ed otteniamo 4 radice di 2. Torniamo all'equazione di partenza e vado a scrivere 2 alla x meno radice di 2 uguale 4 meno al posto di 2 alla 5 mezzi scriverò 4 radice di 2 per al posto di 2 alla meno x scrivo 1 fratto 2 alla x. Effettuo ora il minimo comune multiplo risulta essere pari a t e scrivo t a primo e a secondo denominatore. Moltiplico t per t ed ottengo t alla seconda poi meno radice di 2t. A secondo membro moltiplico 4 per t e scrivo 4t meno 4 radice di 2. Semplifico i denominatori e impongo come condizione di esistenza che t deve essere diverso da 0. Ricordiamo che t è pari a 2 alla x, ossia 2 alla x diverso da 0, ma questo risulta può essere sempre vero in quanto questa funzione esponenziale è certamente positiva e quindi diversa da 0. Porto ora questo termine, questo termine a primo membro ed ottengo t alla seconda meno radice di 2t meno 4t più 4 radice di 2 uguale 0. Qui posso mettere in evidenza una t ed ottengo t alla seconda meno, apro una tonda, radice di 2 più 4 per t più 4 radice di 2 uguale 0. Devo ora risolvere questa equazione di secondo grado e quindi ottengo t uguale meno b e quindi cambiando disegno scrivo radice di 2 più 4 più o meno radice quadrata di b alla seconda e quindi il quadrato di radice di 2 è 2, il quadrato di 4 è 16, il doppio prodotto è pari a 8 radice di 2. Meno 4c, ottengo meno 16 radice di 2, tutto quanto fratto 2. Ora, qui all'interno della radice, osservo che posso sommare 8 radice di 2 con meno 16 radice di 2, ottenendo meno 8 radice di 2. Osservo ora che 2 più 16 meno 8 radice di 2 risulta essere un quadrato di binomio. In particolare, osservando che 2 più 16 più 8 radice di 2 è il quadrato di radice di 2 più 4, questa quantità, 2 più 16 meno 8 radice di 2, sarà pari al quadrato di radice di 2 meno 4 e quindi posso scrivere radice di 2 più 4 più o meno radice di 2 meno 4 alla seconda, tutto quanto fratto 2. Semplifico 2 con la radice e adesso esplicito le due soluzioni. Nel primo caso abbiamo radice di 2 più 4 più radice di 2 meno 4 fratto 2. Nel primo caso posso semplificare 4 con meno 4 radice di 2 più radice di 2 pari a 2 radice di 2. Visto che c'è un 2 denominatore, otteniamo come soluzione radice di 2. Nel secondo caso possiamo semplificare radice di 2 con meno radice di 2. Quello che resta è 4 più 4 che è 8, diviso 2 ed ottengo 4. Una volta che abbiamo determinato le soluzioni in t, ricordiamo che t è pari a 2 alla x e allora devo porre 2 alla x una volta uguale alla prima soluzione, ossia radice di 2, e una seconda volta uguale alla seconda soluzione, ossia 4. Risolviamo la prima equazione. Radice di 2 risulta essere pari a 2 elevato alla un mezzo e allora, confrontando tra di loro gli esponenti, otteniamo come prima soluzione x uguale un mezzo. risolvo ora la seconda equazione. 4, scritto come potenza di 2, è pari a 2 alla seconda. Confrontando tra di loro gli esponenti, otteniamo come soluzione x uguale 2. Vediamo questo terzo esempio. In teoria potrei fissare la tensione su 3 alla x meno 5 alla seconda, sviluppare questo quadrato di binomio ed effettuare poi un cambio di variabile. però osservo che qui ho di nuovo 3 alla x meno 5, che può essere pensato anch'esso tra parentesi. E allora l'idea è porre 3 alla x meno 5 uguale t e sostituire qui e qui 3 alla x meno 5 con t. Ottengo allora t alla seconda più 1 uguale t. ottengo un'equazione di secondo grado che vada a risolvere. Porto t a primo membro ed ottengo t alla seconda, meno t più 1 uguale 0. Applico la formula risolutiva, meno b, ossia 1, più o meno, radice quadrata di meno 1 al quadrato è pari a 1, meno 4, tutto quanto, fratto 2. 1 meno 4 è pari a meno 3, quindi otteniamo un discriminante minore di 0 e allora questa equazione risulta essere impossibile. Essendo impossibile l'equazione in t, risulterà impossibile anche l'equazione di partenza. Vediamo questo quarto esempio. Come prima cosa fisso la tensione su 12 fratto 2 alla x. Voglio riscrivere questo termine mettendo il coefficiente qui di fronte ed ottengo un mezzo elevato alla 2x meno 12 che moltiplica 1 fratto 2 alla x. Osservo ora che scrivere 1 fratto 2 alla x è come scrivere un mezzo tutto quanto alla x più 32 uguale 0. Effettuo ora un cambio di variabile ponendo un mezzo alla x uguale t. visto che qui c'è scritto un mezzo alla x, otterrò t alla seconda, poi meno 12t più 32 uguale 0. Risolvo ora questa equazione di secondo grado. Meno b più o meno radice quadrata di b alla seconda ottengo 144 e meno 4 per 1 per 32 otteniamo meno 128, tutto quanto fratto 2. 144 meno 128 risulta essere pari a 16 e la radice di 16 è pari a 4 fratto 2. Ottengo due soluzioni. 12 più 4 è pari a 16, diviso 2 ed ottengo 8. 12 meno 4 ottengo 8, diviso 2 e scrivo 4. Una volta che abbiamo determinato le soluzioni in t, ricordiamo che t è pari a un mezzo alla x e allora scriverò un mezzo alla x uguale 8, ossia uguale alla prima soluzione, e poi un mezzo alla x uguale 4, ossia uguale alla seconda soluzione. Vado ora a risolvere la prima equazione. Riscrivo 8 come potenza di 2 ed ottengo un mezzo alla x uguale 2 alla terza. Devo ora ottenere la stessa base a primo e a secondo membro. E quindi un mezzo alla x lo ricopio, uguale, 2 alla meno 3 lo riscrivo come 1 fratto 2 elevato alla meno 3. Ora che ho la stessa base a primo e a secondo membro, confronto gli esponenti, ottenendo come soluzione x uguale meno 3. Vado ora a risolvere la seconda equazione. Faccio la stessa cosa del caso precedente. Un mezzo alla x uguale 4 lo scrivo come potenza di 2. Ora devo ricondurmi alla stessa base. Ricopio il primo membro, un mezzo alla x uguale, e poi scrivo un mezzo elevato alla meno 2. Ora che ho la stessa base a primo e a secondo membro, confronto gli esponenti ed ottengo come soluzione x uguale meno 2. Vediamo quest'ultimo esempio. In questo fattore separo questi due esponenti e scrivo meno 2 per 5 alla seconda è pari a 25 e poi per 5 alla x. Poi più, separo qui gli esponenti, ottenendo 25 per 25 alla x uguale 375. Ora 2 per 25 è pari a 50 e quindi ho meno 50 per 5 alla x più 25 per 25, lo scrivo come potenza di 5, ossia 5 alla seconda, e poi ricopio questa x uguale 375. effettuo adesso un cambio di variabile ponendo 5 alla x uguale t e do meno 50t più 25t alla seconda uguale 375. Come prima cosa divido ogni termine per 25. In questo modo avrò un'equazione più semplice. 50 diviso 25 è pari a 2 e quindi ho meno 2t, poi 25 diviso 25 è 1 e quindi scrivo t alla seconda uguale 375 diviso 25 è pari a 15. Porto ora 15 a primo membro e riscrivo l'equazione in forma ordinata. t alla seconda meno 2t meno 15 uguale 0. Ora applico la formula risolutiva ed ottengo meno b, ossia 2, più o meno radice quadrata di b alla seconda che è pari a 4 e poi meno 4 per 1 per meno 15 ottengo più 60, tutto quanto fratto 2. 2 più o meno 4 più 60 è pari a 64. La radice di 64 è 8 fratto 2. Esplicito ora le due soluzioni. 2 più 8 ottengo 10 diviso 2 e scrivo 5. 2 meno 8 ottengo meno 6 diviso 2 ed ottengo meno 3. Ora che ho determinato le soluzioni in t ricordo che t è pari a 5 alla x e quindi dovrò scrivere 5 alla x uguale alla prima soluzione, ossia 5, e poi 5 alla x uguale alla seconda soluzione che è pari a meno 3. Ora risolvo la prima equazione. L'esponente del secondo 5 è pari a 1. Confrontando tra di loro gli esponenti otteniamo come soluzione x uguale 1. Per quanto riguarda la seconda equazione scriviamo direttamente impossibile in quanto una funzione esponenziale non potrà mai essere uguale ad una quantità negativa. E allora l'unica soluzione di questa equazione è x uguale 1. E con questo termino il tutorial su esempi di equazioni esponenziali risolubili con un'incognita ausiliaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.